Balleggianda! No, non mi sono mai chiesto quanti soldi ho ancora sul mio conto corrente bancario che avevo quando giocavo a calcio e dirò calciatore professionista Ma visto che oggi in prigione non c'è niente da fare Verifichiamo! Tutto quel che guadagnavo quando giocavo a calcio ho deciso di risparmiarlo su un unico conto chiamato futuro Se cerchi su Google per chi non lo sapesse il mio valore era di 200.000 euro Ho giocato in Nazionale Svizzera, a San Siro e nelle giovanili del Milan Questo è il primissimo contratto che ho firmato a 16 anni Il secondo a Locarno, a 18 anni Il terzo, il più importante che ho dovuto però interrompere dopo tre anni per un problema di salute alla testa Quanti soldi ho ancora su quel famoso conto? È da otto anni che non gioco più e nel frattempo mi sono pagato gli studi universitari e un soggiorno linguistico a San Diego Ecco quel che mi resta Fatemi uscire BODY 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 BODY